Benvenuti nel canale Fabio Pecce, se il video ti piace puoi farcelo sapere con un like. Michelle Unziker oggi veste di bianco, non perché si sposa ma perché sua figlia Sole si è fatta la prima comunione. Sole nasce il 2013 dalla presentatrice e showgirl Michelle Unziker e l'imprenditore Tommaso Trossardi oggi ha 9 anni. In chiesa era presente anche il fratello di Michelle e la figlia Aurora oltre ad altri parenti ed amici della famiglia. Ricordiamo che Aurora Ramazzotti ha da poco avuto un bebè che ha potuto anche lui partecipare alla festa di sua zia Sole. Infatti Sole anche se piccola, è già zia del piccolo nascituro. Grazie per la visione!